Oh, sono davvero molto emozionata oggi. È stato divertente essere una super mappa, ma penso che ora tornerò ad essere la normale mappa di sé. Ragazzi, non vi sentite un po' stressati? Già, mi ci vorrebbe una ricarica. Servirete... Credo che domani sarà guarito e potremo festeggiare con un bel balletto. Ha 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 ha! Viana! Allora facciamo a cambio, svelto! Venga! Presa! Grazie amici miei! La seconda porta! Guarda! Una cicogna! Con una buffa uniforme! Sì, è vero. Sembra un uniforme da marinaio. I marinai navigano sempre sulle navi. Vediamo se c'è qualche cicogna marinaio che naviga dietro questa porta, amici. È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante. Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Come un gigante! In punta di piedi... E a lui piace tanto suonarlo. Oh! E qualcuno ha anche rubato il campanello della nostra porta! Fic экономico! Buon appetito! Grazie.